Sono 65 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati nelle ultime 24 ore a livello regionale. Numeri in calo, come ogni lunedì, rispetto alle giornate precedenti, visto il numero più basso di tamponi processati nella giornata di domenica. 849 quelli totali, di cui 336 nelle nuove diagnosi e 513 nel percorso guariti. Più di un terzo dei casi, nello specifico 25, sono quelli segnalati nella provincia di Pesaro Urbino, mentre nell'ultima giornata il servizio sanità non ha notificato alcun decesso legato al coronavirus. Sono 9 invece le persone che attualmente si trovano ricoverate all'ospedale di Pesaro Marche Nord. 5 in terapia intensiva, 1 in semi-intensiva, 2 in ostetricia e infine l'ultimo paziente si trova nel reparto ordinario dedicato al Covid. Sul fronte vaccini, l'hub pesarese situato nei locali dell'ex Risto ha riaperto i battenti questa mattina grazie all'arrivo di quasi 2000 dosi Pfizer. Dosi utili per smaltire le richieste accumulate anche nel distretto pesarese in seguito alle decisioni comunicate dal governo sull'uso del Green Pass. Le prenotazioni, in crescita nelle ore successive all'annuncio del nuovo decreto e che sono poi tornate in linea con quelle delle giornate antecedenti, erano state rimandate a causa della bassa disponibilità di vaccini. Nel frattempo è partita oggi, anche nella provincia di Pesaro Urbino, più precisamente nel comune di Borgo Pace, all'esterno del Palazzetto dello Sport, l'attività dei camper destinata a supportare la campagna di vaccinazione anti-Covid, e grazie ai quali saranno effettuate somministrazioni senza la necessità di prenotazione. Buoni i numeri riscontrati nel fine settimana nelle altre località marchigiane dove il servizio risulta essere già attivo, come ha sottolineato l'assessore alla sanità regionale Filippo Saltamartini. Stanno andando fortissimi, diciamo che molte persone però che hanno prenotato la seconda dose vorrebbero sistemare la partita con la vaccinazione nei camper, perché diventa complicato, però c'è un bel risultato positivo. Devo dire che sono numerose le persone che si sono avvicinate al camper e quanti si sono prenotati per ottenere il secondo vaccino. Devo sottolineare però che per il volume delle nuove prenotazioni ci potranno essere dei rallentamenti nella vaccinazione, perché la fornitura dei vaccini non è così abbondante come a noi servirebbe. Quindi serve un po' di programmazione per allungare i tempi di vaccinazione, problema questo che deriva dal rifornimento dei vaccini da parte del commissario. Grazie. Grazie.